ciao ragazzi bentornati sul canale finalmente gli europei li abbiamo vinti alla grande direi anche e quindi è tempo di fantacalcio di iniziare a parlare del nuovo fantacalcio 2021 2022 prima di cominciare questo nuovo anno vi porto qui a farvi vedere la classifica del magic europeo che si è concluso sono arrivato migliore posizione nona e la seconda quattordicesima non ho fatto diciamo un grosso esploat però alla fine siamo entrati nei primi 10 e anche due squadre nelle prime 20 quindi non malissimo ovviamente quest'anno su magic il premio sostanzialmente buono all'europeo era il primo posto che era la juke gli altri poi erano premi minori però mi sono divertito e oggi voglio iniziare a portarvi magic farvi conoscere un po il mondo magic vi porterò quindi in regolamento dell'anno scorso i premi che hanno messo in modo tale da farvi conoscere tutto il gioco anche perché è mia intenzione magari aprire un abbonamento che svelerò nel prossimo video in cui se vi abbonate vi seguirò passo passo per portarvi nel mondo magic allora cominciamo subito perché già si sente nell'aria questo profumo di fantacalcio di nuova annata allora andiamo a vedere subito come era il regolamento dell'anno scorso vi porto prima come prima cosa come ci si scrive a magic perché in tanti mi avete chiesto come 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 si fa a giocare allora ci sono sostanzialmente due metodi il primo è l'abbonamento ce ne sono due diversi di abbonamenti quello da 24 euro e 99 vi dà la possibilità di giocare con una squadra sia a magic campionato che a magic mister quindi con 25 euro voi potete creare una squadra e gestirla per tutto l'anno senza alcun costo aggiuntivo e in più avete accesso all'area premium con i consigli il libro magic e il giorno quotidiano per per sette giorni sempre sempre online mentre se decidete ovviamente più conveniente fare tre squadre sia a magic campionato che a magic mister vi costa 49 e 99 tutto l'anno sempre non pagherete nient'altro una sola volta e avrete tre squadre sia per quindi campionato che mister e in più sempre area premium libro magic e 30 giorni di quotidiano invece di una settimana questa è diciamo la modalità che usano i cosiddetti sistemisti come me perché con 50 euro vi fanno fare tre squadre e poi vedremo anche magic mister anche i premi di quello l'altro l'altro metodo è ricariche ed accessi questo metodo non lo conoscono in tanti perché magari è un po più complicato alla fine funziona così con 60 euro vi danno 110 crediti quindi se voi ricaricate sul sito con 60 euro vi danno 110 crediti cosa sono i crediti con un credito voi potete creare una squadra o gestirla vi dico subito però che la squadra una volta creata ogni volta che voi andate a gestire quindi a inserire la formazione o ad ogni giornata paghereste e quindi se voi fate 110 60 diviso 110 vi costa un 54 centesimi ogni volta che andate a gestire a modificare la vostra squadra dovete farlo poi a ogni giornata perché se non gestite vi dà di default il programma 55 punti quindi dovete gestire per forza io per mio consiglio farei un abbonamento anche se voi giocare con una sola squadra anche se non è sconveniente con 25 euro poi non pagate più niente però potete anche non gestire una giornata potrete dimenticarvi di gestirla vi valgono i punti che avete fatto quindi non il 55 dopo aver visto diciamo come si fa a partecipare andiamo a vedere un po' i premi che c'erano nel 2020-2021 nella prossima settimana probabilmente uscirà il nuovo regolamento con i nuovi premi però ho voluto iniziare con questo video per farvi vedere che è un fantacalcio veramente importante il primo premio era la Jaguar che ho vinto io l'anno scorso e l'hanno rimessa quest'anno identica non cambiava nulla e anche il secondo premio secondo premio una Renault Clio quindi premi importanti però oltre a questi e la generale i primi due anche gli altri non sono niente male perché io quest'anno ho vinto il Beverly 300 avendo perso la prima semifinale e ho vinto la seconda quindi ho preso il Beverly 300 il quarto premio è un bel televisore ho vinto una bici elettrica che è molto bella questa dal quinto al settimo ho vinto anche un televisore dall'ottavo al decimo tre monopattini tutti i premi veramente belli questi della generale arrivano al duecentesimo anche se diciamo dal 150 euro al duecentesimo è un abbonamento quindi forse questo non lo considererei più di tanto poi c'erano tantissimi alti premi che è per questo che ho voluto fare anche il video per farvelo vedere nel torneo di apertura che dura le prime cinque giornate del campionato quindi dalla prima alla quinta durava c'erano cinque premi per chi faceva più punti dalla prima alla quinta ed erano questi qui poi nelle prime cinque giornate c'era una classifica di giornata particolare in cui chi aveva iscritto le squadre dall'app partecipava a questi tre premi mentre chi giocava normalmente la classifica di giornata erano questi altri c'erano cinque premi il primo premio una console Nintendo Switch poi le cuffie il Bose e il rasoio quindi questi erano i premi per la giornata fino alla trentottesima poi un'altra competizione che a me piace tantissimo c'è la Coppa Cazzetta praticamente la Coppa Cazzetta partecipano tutte le squadre iscritte prima di una certa data che ogni volta cambia ed è una prima fase fatta a gironi e poi si partecipa a scontri diretti quella è la fase più bella e c'erano cinquecentododici spazzolini elettrici di cui quasi settanta li ho vinti io praticamente per i primi cinquecentododici che arrivano in Coppa poi i premi più interessanti sono quelli finali ovviamente il primo premio è un altro scooter un Beverly una macchina fotografica io qui sono arrivato quarto perché ho perso la semifinale quindi ho preso le cuffie poi ci sono le classifiche mensili che erano addirittura nove in tutto il il campionato praticamente ogni mensile i primi cinque si aggiudicavano questi premi quindi il Liberty il Bose io sono riuscito a vincere due volte il mensile sul nove e ho vinto quindi due Liberty sono arrivato anche secondo e ho vinto anche il Bose ma anche gli altri diciamo non sono non sono non sono malissimo come premi essendo che è un torneo che lo fanno nove volte poi c'è il torneo di chiusura solamente per le ultime due giornate quindi trentasottesima e trentottesima chi faceva più punti si portava a casa questi altri premi e direi che con questi abbiamo finito poi andiamo ora a vedere magari il regolamento il regolamento vi faccio vi faccio vedere questo diciamo anche se non è quello di di quest'anno come vi dicevo ma è quello dell'anno appena concluso ma diciamo in linea di massima le regole sono sempre quelle cambia qualche qualche piccolezza andiamo allora andiamo allora a vedere allora gli abbonamenti come si ci scrive ve l'ho già fatto vedere le modalità ci sono 250 magic milioni all'inizio però non sono 250 milioni in che senso su magic il fantacalcio comincia subito cioè dove di di norma almeno da quello che ho capito dovrebbe dovrebbe iniziare il fantacalcio di magic il 21 luglio appena si aprono le iscrizioni bisogna iscriversi subito per un semplice fatto i giocatori cambiano il loro valore prima che comincia il campionato come come fanno a cambiare questi valori faccio subito un esempio Nainggolan l'anno scorso ha cominciato all'inter se Nainggolan all'inter era un giocatore che non doveva essere un titolare e quindi costava 16 crediti se non erro nel momento in cui Nainggolan si è trasferito al Cagliari e quindi diciamo il suo status è passato da panchinaro a titolare in un Cagliari quindi il giocatore sicuramente valeva di più perché lì giocava allora da 16 crediti il suo valore aumentava a 21 se tu diciamo stai attento al mercato e quindi capisci che Nainggolan andando al Cagliari aumenta il valore lo metti in squadra mettendoli in squadra ti aumenta il valore quindi la tua rosa invece di valere 250 crediti Nainggolan arriva a 21 aumenta di 5 crediti il suo valore e quindi tu arrivi a 255 crediti di valore rosa ma questo vale per tutti i giocatori che si spostano da una squadra ad un'altra di Serie A quindi c'è stato un anno tutino era il Napoli che non giocava sicuramente valeva pochissimi crediti è andato allora al Verona ed era aumentato di tantissimo e questo diciamo è quello che che succede io infatti nell'abbonamento che metterò darò tutti questi consigli quindi nel momento in cui ci sono i giocatori che si spostano che possono aumentare di valore informerò tutti i miei abbonati oltre questo poi ovviamente vi spiegherò tutte tutte le scelte come farle come come programmare come gestire come gestire i cambi il regolamento lo spiegherò anche oggi questo video però ovviamente spiegarlo bene e dettagliatamente non è possibile un video di pochi minuti andiamo a vedere ora magari le norme più in generale ho parlato prima di questo perché è un aspetto fondamentale perché nel momento in cui voi andate a iscrivervi il 22 agosto quando inizia il campionato è troppo tardi perché a inizio a inizio campionato per dire le mie squadre avranno guadagnato 60 credit in più della vostra che partirete con 250 credit quindi il momento giusto per iscrivere la squadra è appena aprono le iscrizioni quindi se qualcuno di voi vuole farlo e vuole essere aiutato da me diciamo basta fare poi l'abbonamento che aprirò a breve e verrete indirizzati su tutto come fare per cercare di fare vincere voi perché per me io anche quest'anno alla fine ho portato a casa oltre 100 premi e ora voglio pormi un nuovo obiettivo cercare di far vincere qualcuno di voi l'abbonamento ragazzi per ora c'è solo quello a 2 euro e 99 vi posso dire che nel gruppo telegram in cui ci confrontiamo ci sono ragazzi veramente esperti quindi se vi va abbonatevi o a 2 euro e 99 anche perché a 2 euro e 99 quanto prima poi aprirò anche il fantacalcio per gli abbonati quindi ci saranno dei premi e potete partecipare mentre quell'altro per magic gazzetta sarà un abbonamento a parte andiamo a vedere ora le regole le regole allora vi dicevo dei 250 crediti che aumenteranno prima che inizi il campionato se voi siete bravi e mi seguite a fare i cambi giusti poi poi vediamo allora bisogna acquistare 23 giocatori 11 calciatori isolari e 12 vanno in panchina la panchina è tutta cioè non andrete voi sceglierete solamente chi mettere sopra chi mettere sotto ma sarà tutta la panchina che può entrare massimo 3 cambi poi andiamo a vedere potete consegnare la squadra entro 5 minuti prima dell'inizio della giornata i cambi allora per le prime due giornate i cambi sono illimitati prima dell'inizio quindi quando comincia la terza giornata i cambi per tutto l'anno saranno 10 10 cambi per tutto l'anno però ci sono numerose finestre di mercato che vi spiegherò più avanti appena scendiamo un po' ah no già qui già qui questa parte del del regolamento allora al termine della settima quattordicesima e settesima e settesima e trettaquattresima ovviamente questo è quello dell'anno scorso quindi bisogna sempre poi andare a rivedersi quello del prossimo anno vi danno 5 cambi extra che potete fare solamente in quella giornata quindi prima della settima quattordicesima settesima ventottesima e trettoquattresima giornata avete questi 5 cambi extra più 5 milioni extra da utilizzare solamente quella giornata siete liberi di cambiare e non andrà a toccarvi i 10 cambi che vi ho detto prima quei 10 cambi sono escluse queste finestre di mercato in più c'è una maxi finestra di mercato tra vediamo qua quando era vediamo vediamo e infine tra la ventesima e la ventunesima giornata di serie A sarà previsto uno speciale mercato di riparazione nella quale ogni Magic allenatore avrà a disposizione 10 cambi extra e 20 milioni quindi questa è la finestra diciamo di mercato più importante di Magic che vi permette magari di rivoluzionare la vostra squadra quindi questa è una finestra da fare con molta attenzione io quando c'è questa finestra vuol dire da quando aprono a quando finiscono gestisco sempre altra cosa andiamo a vedere i moduli perché diciamo su Magic è un po' diverso dal solito perché ci sono i trequartisti quindi i moduli accettati su Magic sono il classico 3-4-3 3-5-2 3-4-1-2 quell'1 è il trequartista 3-4-2-1 i due sono i trequartisti 3-5-1-1 l'1 è il trequartista poi il modulo più interessante con i trequartisti è il 4-1-4-1 l'altro sempre interessante è il 4-2-3-1 perché alla fine mettete quattro difensori due centrocampisti tre trequartisti è un attaccante mi soffermerei un attimo sul 4-1-4-1 è un modulo per professionisti lo chiamo io però magari se vi seguo potete anche utilizzarlo vi faccio un esempio i trequartisti quest'anno che andavano per la maggiore erano Malinoski Insigne Chiesa Mimmo Berardi c'erano trequartisti molto molto forti l'unico problema del 4-1-4-1 è che non esiste il cambio modulo cioè potete cambiare il modulo solamente con il centrocampista cioè non vi gioca nel 4-1-4-1 un trequartista in panchina non avete un trequartista che abbia giocato vi può entrare il centrocampista però invece se non vi gioca un difensore vi deve entrare per forza un difensore qualora non avete nessun difensore in panchina che abbia giocato e non vi ha giocato neanche un titolare prendetelo 0 quindi giocate in 10 allo stesso modo un attaccante se avete un attaccante titolare che non ha giocato nel 4-1-4-1 dovete avere per forza un attaccante in panchina che vi prenda voto altrimenti prendete 0 quindi giocate con l'uomo in meno diciamo questo è il modulo più difficile da attuare io ho giocato non quest'anno l'anno passato e sono arrivato settimo in generale ma ero l'unico che è arrivato in alto con questo modulo quindi però è un modulo interessante perché si possono vincere tanti premi come vi ho detto prima settimanali si possono vincere mensili perché è un modulo molto offensivo magari se beccate le giornate giuste mi può portare in alto andiamo a vedere ora i bonus i bonus su magic sono diciamo i classici i 3 3 più 3 per l'attaccante in gol 3 e mezzo per il gol del del trequartista 4 punti per il gol del centrocampista 4 e mezzo per il difensore e 5 addirittura se fa un gol il portiere il brignoli di turno poi ci sono più uno per ogni assist più tre per ogni rigore parato e più un punto se il portiere non ha preso nessun gol poi andiamo a vedere i malus ci sono meno 05 ammunizione meno un punto l'espulsione un punto per ogni gol subito vi levano per ogni gol subito dal portiere o da chi ne fa le veci in quel momento meno due punti per l'autogol meno un punto per ogni autogol solo per i giocatori di ruolo portiere o per i giocatori di movimento per i ruoli di movimento se non importa perché praticamente il portiere piuttosto che prendere non prende meno tre se fa un autogol ma prende meno due alla fine mentre meno tre poi per il rigore sbagliato altra cosa importantissima anzi direi fondamentale su magic è il modificatore della difesa quando si applica anzi lo spiego proprio il modificatore della difesa perché in tanti magari non lo conoscono il modificatore della difesa si applica solamente se giocate con un minimo di quattro difensori potete giocare anche con cinque quattro difensori allora il modificatore come si applica si prende il voto base cioè senza bonus e malus del portiere più i tre migliori difensori quindi si fa una media di questi quattro voti e si si aggiungono poi questi punti più un punto se il modificatore di difesa è uguale a sei più due punti se è maggiore di sei e minore o uguale di sei virgola venticinque più tre punti maggiore di sei venticinque e minore o uguale di sei e mezzo più quattro punti maggiore di sei e mezzo e minore o uguale di sei e se tantacinque più cinque punti maggiore di sei e se tantacinque e minore o uguale a sette più di sette sei punti su magic ragazzi ve lo dico subito il modo da utilizzare è con almeno quattro difensori perché senza il modificatore difficilmente portate a casa dei premi quindi giocare la difesa a quattro è fondamentale altra cosa importante su magic è che c'è il capitano quindi voi prima cioè una volta che mettete che scrivate la vostra squadra un giocatore potete metterlo come capitano come porta punti il capitano se ad esempio io metto capitano Lukaku se Lukaku prende di voto sei lui non prende né bonus né malus se invece Lukaku prende cinque prendete meno uno di malus anzi magari vi spiego meglio mettendo leggendovi direttamente ecco qua il motivatore del capitano è un bonus che si applica per ciascuna giornata al giocatore che viene indicato come capitano avrà un bonus positivo o negativo a seconda che il voto quindi senza bonus e malus sia sopra sotto il sei allora se voi mettete Lukaku se il giocatore indicato come capitano riceve voto sette quindi più uno prende sei e mezzo quindi più zero virgola cinque prende sei nessun punto di bonus prende cinque e mezzo meno zero virgola cinque punti prende cinque meno un punto e così via ad esempio prende quattro vi toglieranno altri due punti di malus quindi sembra poco ma invece il capitano è veramente importante io quest'anno a volte l'ho sbagliato devo dire molte volte mi ha portato dei malus andiamo a vedere altre cose altre cose che possono essere interessanti queste ve le ho spiegate più o meno vi ho fatto vedere i premi coppa gazzetta si è la classica coppa gazzetta è la classica coppa con i punteggi qui praticamente si qualificano le prime diecimila squadre erano divise in mille gironi e quindi passavano le prime mille e pochissime migliori seconde nel primo girone per poi iniziare gli scontri eliminazione diretta che sono quelli più belli da fare i mini tornei ve li ho spiegati quello dove c'era lo scooter prima i mini tornei sono molto belli io ho vinto sia il primo che l'ultimo mini torneo quello dove ho portato a casa lo scooter 125 praticamente sfidate tutti chi fa più punti si porta a casa i primi cinque premi qui alla fine sono mini tornei perché proprio sono quattro giornate alcuni tre addirittura quindi sono belli perché il tempo di cominciare capisci se puoi vincere o meno ma comunque ripartono subito quindi sei sempre sei sempre in competizione quindi i soldi che andate a spendere per le squadre avete sempre una possibilità di vincere quindi questo è quello che mi piace tantissimo niente più o meno ho spiegato tutto quello che c'era ovviamente per linee generali non già ho fatto quasi mezz'ora di video però questo era un video che volevo portare per farvi capire il mondo magic perché in tanti mi avete chiesto ma come fai a vincere tutti questi premi ma ovviamente poi io lo faccio con più squadre poi magari per divertirvi io vi consiglierei di fare tre squadre 50 euro di spesa e potete giocare per tutto l'anno alla fine ci sono veramente tantissime possibilità di vittoria e di soddisfazione perché alla fine non si gioca solamente per vincere ma anche per perché piace se magari c'è qualcuno di voi che è interessato a questa modalità commentate qui sotto e fatemelo sapere ultima ultimissima cosa da oggi cominceranno i video mi raccomando lasciate un grandissimo mi piace anche a questo video e da domani cominciamo con con almeno un video un video al giorno da pubblicare quindi si comincia si comincia finalmente la stagione 2021 2022 che che ormai è alle porte perché mancano una quarantina di giorni alla prima giornata di serie A l'ultimissima cosa che volevo dirvi stanno arrivando due fantacalci per voi quindi non 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 mollate questo canale attivate la campanellina iscrivetevi al canale ragazzi che è veramente fondamentale con questo vi ricordo di di seguirmi sempre ciao ragazzi ciao